Ci sono alcuni aspetti positivi ed altri negativi, purtroppo permane ancora una visione molto ambientalista e poco attenta in alcuni passaggi a quelle che sono le esigenze del mondo della pesca e dei pescatori. È sicuramente un passo in avanti positivo ma non ci sarà comunque accordo finale sulla pesca e possibilità di varare la nuova politica della pesca se prima non si chiude il quadro finanziario pluriennale. In Parlamento abbiamo sempre detto che sino a quando non saranno note le risorse che possono essere destinate alle diverse politiche il Parlamento non chiuderà i triloghi e non chiuderà i negoziati sulle diverse politiche, quindi politica agricola, politica della pesca, politica regionale della coesione saranno tutte bloccate sino a quando non ci sarà un accordo sulle risorse.